cantiere giubilare pressoché infinito di via la maddalena ecco qua come è stata restaurata questa strada sono stati allargati un pochino i marciapiedi a sinistra e destra che erano davvero qui su via della mercede strettissime impedivano il passaggio intanto vedete che la strada è chiusa perché c'è il cantiere in corso e hanno allargato i marciapiedi alla dimensione corretta della carreggiata la carreggiata adesso è larga circa tre metri e mezzo quindi non si può più sostare ma secondo voi cosa vi ricorda questa carreggiata anche a voi ricorda la mitica carreggiata di via del di fontanella borghese vedremo quando sarà completato il cantiere ma poi sarà interessante scoprire chissà quando a questo punto visti i ritmi quali saranno gli interventi che verranno effettuati in questa parte di via della mercede nella parte alta che è sempre stata un groviglio assurdo di autovetture perché qua i palazzi si allargano un po' creano questa specie di piazzetta per così dire di fronte di fronte qui alla alla chiesa e quindi appunto c'è sempre stata la possibilità di sostare in questo momento è bellissimo perché c'è il cantiere in corso rispetto anche poi quando si si aprono e vengono consegnati in questa fase tutto molto bello qua se non modificheranno completamente gli spazi di questo piazzale tornerà il caos di prima e vedremo cosa succederà